Un nuovo stop alla presenza delle basi statunitensi a Okinawa è giunto nelle ultime ore con la revoca dei permessi per lo sbancamento e la bonifica della maglia di Henoko, dove dovrebbe essere trasferita la base aeronavale di Futelma. E il governatore Takeshi Onaga, eletto nello scorso dicembre, a revocare l'autorizzazione data dal suo predecessore. La mossa inasprisce lo scontro tra autorità locali e centrali. Per il governo di Tokyo, Okinawa non può revocare un permesso già dato. Su questo tema avevamo già la decisione dell'ex governatore di Okinawa, Anakaima, e non vedo alcun difetto legale in quell'approvazione, dice il capo di gabinetto dell'esecutivo di Tokyo. Le manifestazioni di protesta contro la presenza delle basi americane nell'arcipelago si susseguono da anni, sono basi di importanza strategica fondamentale per Washington e per Tokyo, ma la popolazione locale già ostile si è sollevata in particolare dopo alcune violenze commesse dai militari statunitensi. Grazie a tutti.